Ciao, sono Barbara di Maison du Charme. Oggi vi presento il nostro centro benessere. Abbiamo scelto per voi tutti i trattamenti e i servizi coniugando le tre parole magiche ayurveda, olistico e biologico. Sono rituali di benessere psicofisico. Da noi la cliente viene accompagnata in una dimensione di riquilibrio e rigenerazione profonda di mente e corpo. Un universo di esperienze e protocolli sempre diversi che convergono in un momento unico. Questo è il centro olistico Maison du Charme che si avvale dell'ausilio di due grandi case cosmetiche con prodotti altamente qualitativi. Il cosmetico della linea vedica Marishi che si avvale di una grande conoscenza millenaria che, agendo sulla causa profonda dell'inestetismo e non sulla manifestazione superficiale, non si avranno solo benefici immediati, ma si eviterà che l'inestetismo si ripresenti in un lungo periodo. Rea è una linea vegana a base biotecnologica che preserva l'ambiente e l'ecosistema. All'uso di materie prime di derivazione vegetale sono affiancati peptidi, attivi coniati dalla farmacopea, complessi protettivi del DNA e cipienti in grado di adattarsi ai ritmi circadiani della pelle.